non ci sono livelli di accoglienza adeguati, la rendicontazione, il controllo, la trasparenza è molto più difficile, anche qui apro una parentesi, è nei Cara o in questi centri qua, soprattutto al Sud, che ci sono i maggiori fenomeni di infiltrazione mafiosa e di corruzione, non certamente, non almeno in tutti, gli Sprar che sono gestiti dai comuni e gli enti locali in accordo con il Ministero dell'Interno e c'è un sistema di rendicontazione, di trasparenza un pelo più efficace, mi viene da dire, nella prova anche della vicenda di Riace, che tralasciando quello che succederà anche della vicenda penale del Sindaco Lucano e di tutto quello che è il procedimento amministrativo, comunque denota il fatto che il controllo è molto più efficiente e puntuale anche su un sistema come questo. Quindi è quello su cui non vorremmo ragionare, cioè sul fatto che, va bene, si interviene sul sistema Sprar e tra l'altro non si riesce a capire nelle motivazioni per quale motivo si vuole andare a colpire e a restringere un modello che è perfettibile ma finora aveva dato dei risultati per fare di fatto un passo indietro. Ma soprattutto, e qui entro veramente in un discorso politico, io credo e mi trovo profondamente con lo contrario, quello che anima il decreto sicurezza, soprattutto in quella parte lì, è un intento ostile, ma ostile nel senso di creare le condizioni di un ambiente ostile per chiunque arrivi in Italia e voglia anche con le migliori intenzioni cercare di integrarsi. Perché il sistema Sprar aveva il vantaggio, tra l'altro, di poter, per chi era realmente intenzionato a farlo e rimanere qui, offrire le possibilità e le garanzie di integrazione. Questa cosa qui viene cancellata dal decreto Salvini, perché vengono cancellate le possibilità di accedere a percorsi di formazione professionale o a lavori socialmente utili su base volontaria. Quindi è questo quello su cui vogliamo, con il nostro ordine del giorno, puntare l'attenzione. E dire che si sta andando verso un sistema di accoglienza peggiore, peggiorativo, rispetto a quello che è comunque il modello dello Sprar e soprattutto verso un sistema che implicitamente però dichiara la non volontà di lavorare per l'integrazione di chi arriva in Italia ed è intenzionato a fermarsi qua. Poi tutte le critiche, tutte le osservazioni su quello che è il modello Sprar sono perfettamente accoglibili, condivisibili e ci mancherebbe altro. Però, non so, mi sembra che sia la classica situazione in cui si getta via il bambino insieme all'acqua sporca. Se c'era un problema sugli Sprar mi domando perché non intervenire su quel modello lì per cercare di renderlo migliore invece di restringerlo e di tagliargli i fondi e di togliergli di fatto l'acqua, sostanzialmente, entro cui nuotava. E basta, questa è la precisazione. Altre interventi? Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione. Però dichiarazione di voto, perché ne hai già fatti due. Dichiarazione di voto. Allora, la mia diventa una dichiarazione di voto, è una proposta, però prima la leggo, poi vi spiego la proposta. Allora, se la proposta non viene accettata rimano le dichiarazioni di voto che consegnerò anche alla Presidenza. Allora, il gruppo consigliare Cittadini insieme all'Unione rileva l'incapacità dei governi, fin qui succedutisi, di coinvolgere efficacemente e stabilmente la comunità europea nel salvataggio e nell'accoglienza dei richiedenti asilo. Il gruppo consigliare Cittadini insieme all'Unione rileva che il nostro Paese, fortemente impattato dagli sbarchi, si è occupato di emergenza ma non ha avuto la capacità politica di porre l'esigenza, come ricorda in dato odierno il Presidente della Repubblica, di andare oltre questa. il che evidenzia l'incapacità di un'azione politica finalizzata a far venire meno le ragioni che inducono i migranti ad abbandonare il loro Paese. Il gruppo consigliare Cittadini insieme all'Unione rileva la necessità che raggiunta l'Unione tra i castelli faccia pervenire l'appello al Governo per una richiesta di effettivo sostegno dell'intera comunità europea al nostro Paese nelle politiche d'aiuto ai migranti. Il gruppo consigliare Cittadini insieme all'Unione rileva la necessità che raggiunta l'Unione tra i castelli in collaborazione con la Prefettura di Modena si faccia garante dell'impegno dei comuni dell'Unione tra i castelli affinché avvino concrete iniziative volte ad evitare l'eccessiva concentrazione di migranti sullo stesso territorio e da favorire un loro dislocazione sui diversi territori secondo pari quote assicurando il parametro di quello accordo del Piano Nazionale di Riparto dell'anno 2016. Questa è la nostra dichiarazione di voto. se l'ordine del giorno presentato da centrosinistra per le terre dei castelli con il logo Unione terra dei castelli che trovo anche singolare faccio presente al Presidente se lo ritirate e volete che presentiamo un documento comune su queste basi noi ci siamo se invece volete portare avanti un documento politico del centrosinistra per terre dei castelli in questo modo noi consegniamo questo qua c'è il nostro pensiero ma ci dissociamo siamo d'accordo su molte cose se volete il confronto e volete che facciamo un documento insieme lo facciamo insieme altrimenti va bene lo stesso quindi sì due minuti di sospensione grazie a tutti 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 grazie a tutti